Noi abbiamo detto con molta chiarezza che siamo in una situazione di vera emergenza, che è necessario per impedire la speculazione o l'intervento pesante dei mercati di chiudere in fretta questa manovra. Speriamo di riuscirla a chiudere addirittura in settimana. Il lavoro che stiamo facendo, le opposizioni, ancora prima che lo facesse la PDL, hanno detto con molta chiarezza, in modo particolare la mia area politica, l'Unione di Centro, che bisogna che ognuno si assuma le responsabilità rispetto alle questioni di questo Paese. Però questo mette in luce una debolezza del nostro Governo. I mercati non si fidano di questo Paese, non si fidano di questo Governo e hanno anche delle ragioni di non fidarsi. Quello che è successo la settimana scorsa, gli scontri tra i ministri, le parolacce, il fatto che il Presidente del Consiglio tenti di far passare nella manovra una soluzione dei suoi problemi imprenditoriali e personali, ha creato a livello internazionale uno sconcerto. Io credo che adesso dobbiamo approvare la manovra, rasserenare i mercati, ma se Berlusconi fosse una persona che va bene all'Italia, dovrebbe mollare e lasciare spazio per che si dia vita. un Governo di unità nazionale, chiamiamolo come vogliamo, che affronti le questioni vere di questo Paese che sono le riforme.